ed eccoci qua ancora altra lezione sui chain look così pian piano cercheremo anche di completarli ok almeno arrivare ai primi dieci chain look e oggi siamo al 9 chain look numero 9 ancora una tecnica di soli calci come la precedente ok qui cosa abbiamo dobbiamo la differenza che adesso partiremo con la gamba in avanti quindi vuol dire che si lavorerà in anticipo posizione di guardia e si partirà subito con un datat sinistro in anticipo cosa vuol dire che il datat viene tirato senza fare passi e altri movimenti si carica la gamba si tira il datat si appoggia il piede si tira il datat destro si riappoggia il piede ci si gira e si esegue il datat sinistro ok e si scende in guardia tecnica completata quindi abbastanza semplice da imparare da lavorare tanto per poter fare bene i calci la ripetiamo la seguiamo nel video qua accanto a me quindi abbiamo datat sinistro in anticipo quindi con la gamba avanti subito datat destro appoggio rotazione dad apply sinistro mi raccomando caricare bene il dad apply una volta finito il dad apply si scende in guardia ed è terminato il chain look ottimo spero siate riusciti a fare anche questo e aspetto sempre i vostri video ciao ragazzi